Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 6. La via che conduce alla vita. Molte delle scelte che facciamo sono marginali, altre invece sono di fondamentale importanza. Esiste però una scelta vitale in quanto da essa dipende il nostro destino eterno. Gesù dichiara che lui è la via che conduce alla vita. Soltanto chi decide di seguire Cristo può sperimentare la gioia della salvezza, ricevere il perdono dei peccati e avere comunione con il Padre. La Bibbia dice, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Evangelo di Matteo, capitolo 7, verso 13. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità. Il cammino verso la vita eterna è caratterizzato anche da prove, ostacoli e difficoltà, ma la differenza sta nel fatto che se confidiamo in Gesù lo troveremo sempre pronto a sostenerci con la sua grazia. Oggi tocca a te prendere la decisione giusta. Nessuno può scegliere al tuo posto. Grazie.